Sabadi Krap, Pompifan e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Thailandia Allora, i mercati emergenti asiatici sono tornati in vita mercoledì dopo le festività del Capodanno normale con il BAT in calo prima di una decisione sui tassi della Banca Centrale mentre le azioni di Singapore hanno toccato un massimo di quasi non mesi prima dei dati sull'inflazione Il BAT è sceso prima di una decisione sui tassi ufficiali della Banca Centrale mentre le azioni di Singapore hanno toccato un massimo di quasi non mesi prima dei dati sull'inflazione Il BAT è sceso del 0,3% nonostante l'aspettativa che la Bank of Thailand, coi cronomi BOT aumenterà i tassi di altri 25 punti base nel corso della giornata per frenare l'aumento dell'inflazione Quest'anno il BAT si è apprezzato del 5,3% rispetto al dollaro degli Stati Uniti diventando una valuta con le migliori prestazioni in Asia trainate da un dollaro più debole e dalla riapertura anticipata della Cina I visitatori stranieri in Thailandia sono aumentati lo scorso anno rispetto all'anno fa con il settore turistico vitale del paese destinato a un ulteriore impulso da un budget di 120 milioni di dollari recentemente approvato Io chiedo scusa per i rumori che si sentono di sottofondo C'è una signora con l'Alzheimer che da ieri sera, da quando l'hanno ricata che siccome le mettono la sbarra, muove la sbarra quindi volevo assicurare a tutti che il rumore che si sente di sottofondo non è che c'è qualcuno che sta trombando ma è la signora che cerca di evadere dal letto con la sbarra D'altro canto non si può fare altrimenti perché siccome riesce a muoversi è all'Alzheimer, quindi è pazza Purtroppo chi ha questa malattia prende la memoria del pesce rosso cioè tende a uno dei sintomi del bonding cioè che si alzano e iniziano a girare come pazzi alla ricerca di chissà che cosa quindi entrano nelle stanze degli altri prendono, toccano, mangiano fanno qualsiasi cosa e quindi è necessario che siano che non, insomma, visto che non è che possono avere dei secondini che gli stanno dietro tutta la giornata durante la notte vengono siccome c'è riduzione personale non possono essere lasciati liberi perché sono pericolosi sia per loro che per gli altri ogni tanto si sente anche qualche altra signora che grida ahi, ahi quindi scusate sottofondo purtroppo a quest'ora la gente invece di dormire sono i 3.49 di mattina comunque quindi 120 milioni di dollari recentemente approvato l'indice del dollaro ha continuato ad embolirsi rispetto alla sessione precedente dopo che i dati hanno mostrato che l'attività commerciale degli Stati Uniti è ridotta per il settimo mese consecutivo i mercati si aspettano un aumento dei tassi di 25 punti base dalla Federale Reserve a febbraio la maggior parte dei mercati regionali ha ripreso le contrattazioni dopo un lungo fine settimana festivo anche se Cina, Taiwan e Hong Kong sono rimaste chiuse il Ringgit della Malesia è salito scusate è salito dello 0.3% il World Sud Coreano è salito dello 0.2% e la Rupia Indiana è salita fino allo 0.3% il brusco smantellamento da parte della Cina delle sue rigide misure contro il Covid-19 ha favorito una ripresa della propensione a rischio in Asia nelle ultime settimane con Thailandia, Singapore e Malesia che ne sono i principali beneficiari il dollaro di Singapore è salito dello 0.2% gli analisti di MyBank si aspettano che le prospettive a medio termine per la valuta siano sostenute da un potenziale inaspiramento da parte della Banca Centrale e dall'apertura della Cina il bilancio del Paese del 14 febbraio sarà un potenziale inaspiramento da parte della Banca Centrale e dalla riapertura della Cina il bilancio del Paese del 14 febbraio sarà analizzato alla ricerca di suggerimenti sulle priorità a medio termine nel governo per l'economia di Singapore aggiunto MyBank il tasso di inflazione corre di Singapore che esclude il trasporto su strada privato e i costi di alloggio è stato del 5.1% a dicembre invariato rispetto allo stesso ritmo di novembre ma leggermente superiore alle previsioni la rupia indonesiana è scivolata del 0.5% invertendo il brusco ribalzo dell'1.2% del giorno prima la scorsa settimana la Banca Centrale del Paese ha segnalato la fine anticipata dal suo ciclo di inaspiramento bene per questo video è tutto con MyCrap per mi seguite all'epoca mai il prossimo video è scusata come ho detto prima il rumore di sottofondo purtroppo non ci si può fare nulla qua siamo in mezzo ai pazzi buongiorno e ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao vi abbraccio ciao 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 Grazie.